Di Federico de Roberto, i vicere, voce di Lorenzo Pieri. Libro terzo, capitolo primo, seconda parte. Sperando di riuscir meglio con la sorella, il cavaliere andò a rinnovare il tentativo con Donna Ferdinanda. Asciutta e verde come un aglio, la zitellona pareva sfidare il tempo. Gli anni le passavano addosso senza mutarla. Ne aveva ormai sessantadue e non ne mostrava più di cinquanta. Solo le mani le si coprivano di rughe e si spolpavano e si irruvidivano a contar denari, come a lavorare il ferro o da zappar la terra. Anche lei aveva ricevuto la circolare dell'Araldo Sicolo, ma vedendo il fratello cominciò a chiedergli notizie della sua salute di Palermo, delle persone che conosceva in quella città, ascoltando con interesse i discorsi interminabili del cavaliere, che incoraggiato da quelle buone disposizioni nominava un mondo di persone con le quali era come fratello, ne narrava i casi con tanto interesse, come se fossero corsi a lui in persona. La separazione del duca Proti, tanto amico mio, quella pazza della baronessa, non mi volle dar retta. Io al principe l'avevo detto, caro Emanuele, pensaci bene. Le chiacchiere tiravano in lungo perché donna Ferdinanda gli dava la corda ed il cavaliere non ne aveva neppur bisogno, felice di mentovare le sue grandi relazioni palermitane. E non sai la più bella notizia, la figlia della Palmi, è sposa. Sì, e con chi? Col mio amico Memmo Duffredi, Duffredi di Casaura, il nipote di Cicciolo Iacono, la prima nobiltà di Palermo e parecchi milioncini di proprietà. Ma davvero? Una gran fortuna per la ragazza, quell'intrigante del barone ha combinato ogni cosa ed ha preso Memmo in trappola. Naturalmente come parente non potevo dir questo, altrimenti sarei andato da Ciccio per avvertirlo. Tuo figlio può trovare un partito migliore. E poi quella ragazza ha un certo fare. Basta, io non ho parlato tanto più che giusto quando si combinava la cosa ero a Tunisi. Ah, sei stato a Tunisi e per fare che cosa? Che cosa? Niente, per di porto. Egli tossicchiava un poco, tuttavia imbarazzato, quasi confuso. E poiché donna Ferdinanda continuava a fargli domande, per sapere se Tunisi era una bella città, quanto tempo c'era stato e via discorrendo, il cavaliere quasi risolvendosi disse finalmente, ci fui per raccogliere le soscrizioni alla mia opera, sai. Opera? Fece la zitellona con atto di meraviglia. Qual opera? Come non hai ricevuto il manifesto? Io non ho ricevuto niente. L'araldo sicolo, la storia della nobiltà. Tu, tu stampi un'opera? E scoppiò in una di quelle sue rare risate che pungevano nel vivo. Don Eugenio, che aveva sostenuto imperterrito tutti i rifiuti del monaco, si sconcertò all'ilarità della sorella. Perché? Domandò tentando di rialzare la propria dignità di cui donna Ferdinanda faceva l'udibrio con quelle risa indecenti. Non sono forse buono a scriverla, come tanti altri? E la risata non finiva. Quando il vecchio spiegò che libro aveva scritto, essa divenne più fine, più ironica, più tagliente. Una storia della nobiltà dopo il Mugnos e il Villa Bianca. Per ficcarci dentro gli arricchiti che si devono dare del cavaliere e del marchese. La nobiltà autentica era tutta scritta nei libri antichi e il cavaliere tentava almeno di dimostrare la bontà della speculazione. Ma la zitellona non gli dava quartiere. Guadagnare con la carta sporca. Per chi mai la carta sporca ha avuto valore fuorché pei pizzicagnoli? E chi avrebbe comprato un libro di lui? Si sarebbero messi a ridere come rideva lei. Le firme le avevano poste per levarselo di torno. Bisognava vedere quanti avrebbero poi pagato. Almeno mi presti qualche centinaio di lire? No, perché non me le restituiresti. E ogni altra insistenza fu inutile. Andato a ripetere il tentativo dalla nipote Chiara, don Eugenio non pote neppure vederla. La cameriera gli disse che il marchese era fuori e la marchesa chiusa in camera col dolor di capo. Digli che c'è suo zio. Vostra eccellenza scusi ma quando ha il dolor di capo nessuno può parlare alla signora marchesa. E facendo il cavaliere un atto di impazienza la donna mormorò guardandosi attorno. Eccellenza c'è guai. Che guai? La marchesa. Ma signor cavaliere per carità non mi faccia perdere il pane. Pazza pel marito è vero eccellenza. Tutta una cosa. Quello che voleva il signor marchese era legge per lei. Né il padrone ne abusava d'amore e d'accordo in tutto e per tutto. Adesso? Adesso non c'è più pace per quel figlio di chi so io. Un diavolo dell'inferno eccellenza. E la padrona che non ci vede dagli occhi dal tanto bene che gli vuole lo lascia fare. Lo difende contro il padrone. Litigano tutti i giorni perché il signor marchese vorrebbe correggerlo. Insegnargli l'educazione. Obbligarlo a studiare. E invece la nipote di vostra eccellenza se la prende col padrone perché gli maltratta il ragazzo. Ieri vennero alle grosse. Non si parlano da ventiquattro ore. Il signor marchese è uscito di casa all'alba. Chissà se torna. E per quanto insistesse don Eugenio non poté persuadere la cameriera ad affrontare il malumore della padrona portandole l'ambasciata. Allora egli andò a battere alla porta dei giulente. Arrivò da loro sull'annottare dopo una giornata di corse. Benedetto non c'era e Lucrezia non si riconosceva più tanto s'era trasformata ed imbruttita. Il corpo era diventato un sacco di carne dove non si distinguevano più né seno né vita né fianchi. Il viso dalla continua acrimonia che la animava dall'inguaribile scontento della propria condizione era divenuto duro, arcigno, inaspettatamente rassomigliante a quello del principe. E il primo discorso che tenne allo zio rivedendolo dopo tanti anni fu giusto contro Benedetto. Non c'è, non sta mai in casa. Adesso che non è più sindaco, si è fatto nominare presidente del consiglio provinciale. Per amor della patria, vostra eccellenza mi capisce. Più invecchia e più bestia diventa. È un pazzo. Ma la disgrazia è che fa impazzire anche me. Dopo vent'anni, ella calcolava il tempo a modo suo, un altro che non fosse tanto bestia avrebbe capito l'inutilità rifare il servitore a questo e a quello. Invece pare l'uovo al fuoco. Più sta e più indurisce. Vuole essere deputato. Per che cosa? Domando io. Dopo che sarà deputato, che cosa avrà buscato? A fare il sindaco ha guadagnato questo che nessuno lo può vedere. Neppur quelli ai quali ebbe la stupidaggine di rendere servizio. Bene gli sta. Verso la propria famiglia, ella aveva ancora quel misto d'astio, di invidia e di premura, secondo che il vanto di farne parte, il dolore d'averla lasciata o il sospetto d'esserne ripudiata predominavano nel suo cervello. Anche ora, parlando del viaggio del principe, ella ripeteva con insistenza che il fratello e la cognata le scrivevano ogni due giorni e riferiva il contenuto delle loro lettere, annunziava il loro ritorno per l'autunno. Poi cominciava a criticare ed ammalignare. Hanno fatto bene a prendere essi stessi Teresina dal collegio e a farla viaggiare. Mia cognata è un'altra madre per questa figliastra. Dal tanto amore l'ha tenuta due anni più del bisogno in collegio per farne una letterata. Graziella si intende molto di letteratura. Però subito dopo soggiunse, e vostra eccellenza non ha visto l'ultimo ritratto di Teresina. No, aspetti, vedrà che bellezza. Me l'hanno mandato due mesi addietro. Di Consalvo, però, riprese dopo che abbia mostrato il ritratto allo zio, né nuova né vecchia, come se non fosse loro figlio anche lui. Senza le lettere che scrive alla zia non sapremmo se è vivo o se è morto. Adesso dice che è a Parigi. È stato a Berlino, a Londra, a Vienna. Il cavaliere non l'udiva, rimuginando il discorso da tenerle. Appena la nipote fece una pausa, egli espose la speculazione ideata, che riuniva l'immancabile riuscita finanziaria alla nobiltà dello scopo. Ma Lucrezia, storia della nobiltà, replicò. Dov'è più la nobiltà? Che storia vuole scrivere, vostra eccellenza? Adesso sono in favore i lustrascarpe, non i nobili. Per essere considerati bisogna venire dal niente. Scriva piuttosto la storia dei villani e dei maestri notari, quella sì che c'è da guadagnare. Imperturbabile, Don Eugenio ricominciò il giorno seguente. Dai Radalì Uzzeda trovò il duca Michele e il barone Giovannino. La duchessa era fuori di casa. Michele a venticinque anni perdeva i capelli e pareva vecchio del doppio. Giovannino era invece più grazioso di prima, fine, elegante. Udita la richiesta del parente, entrambi risposero che solo la madre gli avrebbe potuto dare risposta. Il giorno dopo il cavaliere tornò a parlare con la duchessa e questa cadde dalle nuvole. Io stampar libri? E come mai vi viene in testa una cosa simile? So molto di queste cose io. E Don Eugenio ci rimise le pedate. Ma egli non si perdette d'animo. Dai lontani parenti passò agli amici, ai semplici conoscenti, alle persone che incontrava per istrada e che fermava col pretesto di rivederle e salutarle. Cominciava a riferire come se le avesse avute direttamente le notizie del principe e di Consalvo apprese da Lucrezia. S'addolorava per la lite tra padre e figliuolo. Annunciava il ritorno della principessina che diceva ad aver visto a Firenze una bellezza da sbalordire. E poi parlava del suo soggiorno di Palermo. Descriveva l'appartamento di dieci stanze che aveva abitato sul Cassaro, drappeggiandosi maestosamente nell'abito lercio e sdruscito, che diceva la miseria, la fame, le ignobili promiscuità. Riferiva ancora il viaggio di Tunisi, l'onorificenza beilicale, ma senza spiegare a qual titolo l'avesse ottenuta, che cosa avesse precisamente fatto alla corte di sua altezza. E quando aveva bene intontito la gente con tutti questi discorsi, domandava a Bruciapelo, avete ricevuto il mio manifesto? E riesponeva il concetto dell'opera e numerava le adesioni ricevute. Ogni volta queste crescevano di numero. Le firme dei privati salivano da 200 a 300, a 4, a 500. Quelle dei municipi sommavano a 50, a 70, a 90. Le biblioteche si moltiplicavano da un momento all'altro. Mille sottoscrittori erano già sicuri, un altro migliaio non potevano mancare. E offriva la compartecipazione e si restringeva all'anticipo. Da ultimo dichiarava di contentarsi di dodici firme, di sei, anche di una. Per levarselo di torno la gente prometteva ambiguamente, ma egli prendeva nota dei nomi in un suo portafogli unto e squarciato, unicamente imbottito di circolari e di schede, delle quali faceva nuove distribuzioni, ficcandole in tasca a chi rifiutava col gesto, raccomandando di diffonderle, di riempirle al più presto. Dopo una giornata di lavoro, nel momento che stava per rientrare all'albergo, incontrò Benedetto che ne usciva. «Eccellenza, come sta? Ero venuto a trovarla. Mi dispiacque tanto ieri di non essere in casa». Un poco imbarazzato, Don Eugenio lo invitò a salir su in camera. Una camera col pavimento affossato, due strisce di tela bianca, guisa di tendine ed innanzi alla finestra, una catinella sopra una seggiola e una brocca per terra. «Ho dovuto venire qui perché al Grand Hotel era tutto pieno. Come si sta male in questa città? A Palermo avevo un appartamento di dodici stanze. Bisognava vedere che scala». E nonostante il rifiuto postogli da Lucrezia, egli cavò di tasca le circolari ed entrò subito in materia. «Tua moglie non t'ha detto. Sono venuto per stampare la mia opera. Un affare magnifico. Tremila copie assicurate fin da ora. Per ventimila lire non la cederei a nessuno. Ma non ho quattrini da cominciare la stampa. Vogliamo farla insieme. Spartiremo i guadagni da buoni parenti ed amici». Giulente esitò un poco, poi domandò «Che ha detto Lucrezia?» «Tua moglie?» «Ha detto di sì, solo che tu ti persuada della convenienza della cosa. Guarda un po'. E non capendo nei panni dalla gioia d'aver trovato finalmente uno che non rifiutava, gli sciorinò dinanzi alcune schede con qualche firma. Va bene, va bene, già che Lucrezia approva. Se anche mutasse parere, in fin dei conti, potremmo fare a meno del suo consenso». Benedetto esitò un poco, poi disse «No, signore, è necessario, perché adesso i denari li tiene lei». «Come? I denari? Tu non puoi disporre di qualche migliaio di lire?» «Eccellenza, no, gli affari pubblici mi portavano via molto tempo. Ho ceduto a lei l'amministrazione».